another fight is coming your way ragazzi benvenuti in un nuovo episodio di street fighter 5 beta e oggi ci sarà un personaggio no vi ricordate quando nel lontano 1845 pubblica il video di vega e dici che vega non è che mi sia piaciuto tanto ecco qua siamo proprio con dal sim e se vega non è che mi piace non mi sia piaciuto più di tanto qua proprio siamo al completo matrimonio tra lo schifo e l'aberrante perché davvero ma fa schifo come vedete qua nel nell'incontro non sono riuscito a fare due mosse 2 e poi se uno incomincia e dice non mi piace molto combattere proprio siamo a partiamo con una marza in più ma la cammi vestita proprio da questo qua che si mette a fare posizione yoga e ho tirato sta palla di fuoco che l'ha presa in pieno qua ovviamente adesso incomincia mettermi le gambe tra la faccia che fa anche bene però diciamo che ma rotto le uova con i pulcini e ma sfondato le chiappe quasi perfect e direi che la prova è stata molto bella diciamo se devo esserci o che l'hanno depotenziato non lo so forse gente si è lamentata per i troppi attacchi spam abbastanza veloci dei capitoli precedenti perché davvero lottando con dal sim su mi bai poi ci ha fatto anche un altro incontro si sente la lentezza proprio magari sono scarso io e questo ci si può aprire proprio un discorso anche all'onu però lottando con dal sim proprio ho sentito prepotentemente proprio la lentezza e qua proprio ma preso al nel tallone ma preso e ma sfondato le chiappe con un 20 hit parade quindi ragazzi che devo dirvi dal sim si becca proprio la mia ultima posizione per quanto riguarda i combattenti sleet fighter che non userò mai nel gioco completo spero che comunque il tentativo vi sia piaciuto ci vediamo domani con un nuovo video ciao ciao